Prendiamo dei mirtilli, mettiamo del limone, un cucchiaio di zucchero scarso e li facciamo insaporire bene. Prendiamo la ricotta senza lattosio, la versiamo in una ciotola, un cucchiaio scarso di zucchero a velo, setacciato. Prendiamo un goccino di limone e la scorza di mezzo limone grattugiata. Prendiamo dei savoiardi. Tagliarlo a metà così, o se no anche dei pavesini potete usare. Se avete la sac à poche per fare una bella figura, prendete la sac à poche. Io per fare in fretta la metto così. Vediamo di spalmarla un po'. Se invece avete la sac à poche per fare i ponfi, come fanno vedere nei grandi ristoranti. Prendiamo i nostri mirtilli, che sono stati un po' macerati con lo zucchero e limone e li mettiamo sopra. Scegliamo magari più belli per fare proprio le barchette. Io mi ricordo quando ero piccola che c'era una pasticceria che aveva proprio queste barchette così. Ecco, con tre mirtilli sopra. No vabbè ragazzi, guardate. Barchette con ricotta a limone e mirtilli. I dolcetti dell'ultimo minuto. Facili, veloci e buonissimi.